distruggerò gli atti che no non lo succo su casa bentornati ragazzi su di gaming continuiamo la nostra storia su guarda i cani e ballano e uso questo meglio meglio perché con la tastiera però devo provare a fare una cosa devo provare a vedere perché io sparando con l'analogico sono negatissimo cioè non so sparare cioè non riesco a mirare cioè col mouse ok ma con gli analogici non riesco a mirare quindi voglio provare che io gioco con il joystick guida auto a piedi tutto quanto con il joystick però quando bisogna sparare voglio vedere se usando il mouse posso comunque fatti raggiungi il nascondiglio oddio sta piovendo tipo se io si funziona anche col mouse ragazzi grandissimo ma io la mia macchina io non l'avevo lasciato qui il personaggio esplosione devo rubarla vabbè noi molto cautamente e molto in maniera circospetta ci pigliamo questo furgoncino c'è l'allarme no aprimi b per nasconderti nell'auto ma sei rimasto come eri coglione c'è l'ascondiglio c'è l'ascondiglio e a fare un po' di bravate con la nostra scala qui non è come gta nel senso non puoi andare in giro a ammazzare persone perché ti fai una brutta reputazione ora non so se la reputazione è brutta si ma ti devi togliere ah ma il nascondiglio era qui ma che cazzone che sono cioè qui veramente va giocato anche un po' in diciamo in rp in royal playing nel senso che devi parcheggiare cioè non devi fare il cazzone che va in giro a ammazzare la gente non dovrebbe essere questo dobbiamo andare al piano di sopra ora ok ciao bello t'ha a posto? ora non possiamo creare i telefonini delle persone eccetera perché dobbiamo ancora andare al ctos ahia eh no nascondila nascondi l'arma devo ancora imparare i comandi perché l'ho imparato il tutorial l'ho fatto con la tastiera e mouse e ora c'ho il joystick quindi devo imparare un po' i comandi che ci fai seduto qui? ma fatti i cazzi tuoi però se vuoi io sono lo zio quindi quella forse è la mia sorella attenzione la persiana della finestra ma si muove a dismisura punto interrogativo c'è nulla di ma sono le puntine coglione raggiungi il tuo nascondiglio riposo le informazioni sulla posizione di morisse erano giuste abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor del ctos mentre distraevi la polizia ok io devo andare qui siamo sulla stessa banca la backdoor ti permette di avere accesso alla rete ctos sto lavorando su una cosa più grossa per me punto abilità ottenuto posso mettere i talenti in hacking ah solo qua cancelli i garage sei sicuro di voler acquistare questo tratto? no ti hai premuto x per aprire e chiudere i cancelli ah ottimo ottimo c'ho cinque punti abilità disponibili naviga ah ecco ok allora hacking fai da te guida combattimento io sarei più predisposto per o il hacking o il fai da te combattimento sinceramente a me piace più lo stealth abilità notorietà fai da te ma fai da te granata è un esplosivo che spara vabbè lo sappiamo esca gemcom un'app molto in voga disturbare le chiamate dei cellulari è solo l'inizio disturba persino le scansioni della polizia si proprio un'app molto in voga scansione cts rivolare e marcare nemici non giocanti poi proveremo anche in online anche in online granata l'esca già c'erò aumento di concentrazione ah vedi c'è la concentrazione per spara meglio è lì usa il mouse ragazzi va bene qui che c'è strumento da hacker batteria extra giugno ho studiato batteria ah perché c'è pure la batteria aumenta la quantità di denaro ottenuta quando si aggiano i conti in banca dei banco no voglio la batteria voglio la batteria perché il mio iphone non dura neanche un giorno quindi è una cosa che desidero con tutto il cuore ma nella real life non ce l'ho invece qui la voglio tiro il roto x per sovra caricare gli impianti degli edifici e creare esplosioni uuuuuuuu già ce l'ho controlla treni prima x per far partire da nemici bellino trasformatori vabbè richiede controllo treni ovviamente ponti per aprire i ponti della città dissuador ah questo lo voglio questo lo voglio assolutamente accetta ciò altri tre punti inizia apri il tuo mondo per sbloccare sono le ripotenziamenti guida non mi interessa per niente e qui questo qua perciò gli altri due punti ce li conserviamo fine dell'ottavo missione completato devo riposare vai a dormire a 0 l'attenzione a queste l'attenzione ok 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 no ok questo già per ripararti io possono sapere ok ecco riposa se capisco come si fa lì mi esce la hicks qui non mi esce niente scusate ragazzo ora premo di tutti i pulsanti mappa smartphone navica ora mi aspettavo niente componenti elettronici guarda roba akera ma questa è casa mia perché la doverà chiave di sistema come per acqua uso singolo ha perso capito perché mi fa dormire ragazzi e avvicinare ecco ma dormi si dà città mi sei ore o finale 6 del mattino quello che è un po basso ma io sono questo oh mio dio ecco perché era incazzato all'età di sei anni c'è un pezzo di pizza non voglio ricordarla così non la sogno mai ma sono schiacciato sulla finestra che aspetta il mio arrivo il buffo paletto che faceva sempre lo stesso incubo è uscito dalla stanza del motel arma sbloccata devo pensare ad altro per fortuna la città è piena di distrazione prostituta veterinaria ipocondriaca discende dai rom noleggiatore profila le persone per individuare eventuali attività criminali vicino al tuo nascondiglio badonna ragazzi ok dai pricks per attivare il profiler tiri premuto x per aggrare le persone ok un giorno dovrò ringraziare il sito messo basta violare il sistema di riconoscimento facciale per avere accesso ai dati personali di chi ah gli ho rubato praticamente ok si è sottoposta la chirurgia oculare oh scusate no tutta una troia eh ho sbagliato scusate no scusa tu che vuoi tu un arcolettico giocatore d'azzardo conto in banca 200 dollari certo tramite banco possibile criminale trovato ok anch'era ah stanno messaggiando non gliela farò passare liscia non fare il matto calmati fa un culo vado lì subito questo è davvero pazzo ma oggi non farà male a nessuno basta tracciare la chiamata ed è mio indaga sull'aria ok madonna che spettacolo ragazzi la mia macchina c'era la mia macchina ah io mi prendo questa eh lo so che non è la mia però dissuasore scusa scusa no che cazzo fai eh dopo cambia visuale come si fa a cambio visuale scusate scusate scusa lo faccio grazie da queste parti io doverai non farti scoprire lascia fare al profiler e come person of interex l'avete mai vista con la serie tv? allora raggiungi l'area profila per identificare un potenziale vittima o criminale non farti scoprire aspetta un'armicittura prima di intervenire prendi il criminale senza ucciderlo perché non ha ricompenza della reputazione maggiore ok eccolo lì il criminale no non era lui no non era lui ci siamo deve essere vicino ecco la donna che sta seguendo potenziale vittima che vicina lo sento segui la vittima ehi dobbiamo parlare non c'è niente di cui parlare abbiamo chiuso rassegno ti sbagli non ho ancora finito andiamo a fermarti subito e fatemi non scherzare con me l'ho beccato vieni qua eh eh dove volevi andare figlio di puttana criminale neutralizzato nuove abilità di non è morto non direi puttana nate colpi antivi aumenta i danni ai veicoli ah vabbè ma le devo pigliare per forza ora la ricompensa l'ho guadagnata l'ho guadagnata perché ho fatto sta missione ok ok progressi no senti la mia macchina dov'è? ok 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 abbiamo capito stai ma come cazzo qui lì auto richiesta accedi allo smartphone stanzione l'app sblocca il video qui stai già andando guidando e ricochierando i civili acquista acquistino l'app ahah uuuuuh ok Oh my cazzo lui Allora Oh cazzo Non c'è fatto niente Andiamo da una cosa rosso Eh postati Donna di merda Scusa Che qui che c'è del rosso Oh grandissimo Scusa scusa Senti ma stavi suonando Ah ti fai a prendere la bibita Ecco Vediamo se è qualcuno di questi Vittima di un pignoramento Patente scatodetto Aeroporti e bagagli Ragazzi del canto in banca Contatti con possibile Criminale Chi sta messaggiando Ha sparato con uno dei nostri Ora tocca a lui E poi I suoi spareranno Con un altro dei nostri E così che funziona Ok Andiamo Ma tu non ti puoi fermare lì Però C'è lo stop Però non ti puoi fermare Cazzo di cane Ah Porca roba Senti Verde Dai Ho fatto il macella Con quel semapro Soppasso Merde Merde Potete andare E anche qua Merde Merde Quindi Io ho visto Una missione Si doveva sbloccare Il CTOS O il magnum E dai Ho capito che c'era Mitsubishi Sotto andato al motello Grande fratello Ma è la casa del grande fratello Questa No Ma è grande cancello No Grande fratello Va bene Andiamo a vedere Che succede Soppasso Dissuasione Oh Dove va C'è lo stop Coglione Scusa 70 metri C'è lì C'è lì Buongiorno Dion Campion Campionesta Beauty box Possibile Criminale Uomo d'affari Assolto Dalla cosa Di assalto E aggressione Compariscente Da un cancro No no Aspetti Oh L'ha sparato Salta Madonna L'ha sparato Sto stronzo Ah Gli ho rubato la pistola No Mettila in tasca Ok Diciamo che Le missioni secondarie Sono queste Bisogna trovare I cazzoni Non da capire Ok Che abilità Mi ha dato Non lo so Però Abilità Notorietà È questo Vabbè Sti cazzi Ma scaldi l'arma Ma Ma Questa Era bella La verità Dalla Prova J.com Qui che c'è Non disponibile Vabbè Io c'ho la macchina qua Perché c'è Contratto da fixer Andiamo Ma che cazzo dici Oddio Ma dove Come cazzo Willy Madonna Santissima Allora Ma io ve lo voglio Sto grande fratello A dire la verità Ma Ma vediamola Sti cazzi Ah eccola Dove La visuale Grande fratello Inizia missione Va bene Scusate Bevo il caffè Unisciti alla festa In giardino Se stai Andiamo a piedi Dai Ah questo è il profile Questo è per nasconderti Questo Scusa Scusa Questo Questo che faceva Questo che faceva Questo era l'usa Questo Questo non fa niente Scusa Va bene E' qua Buonasera Sono Il joystick Il famoso Probabilmente Sono sul retro No scusa Ah ok Questo serve per il resto Una macchinuccia No da qui non si passa Ma porca puto Ma come le fanno le sieppe No Aspettate No Pensavo potevo attivare Con la che era La fontanina Ma come ci arrivo Da dire Scusa Ma ecco Ok Ci siamo Ci siamo Secondo me Questo È l'importo Dieci Nove Dieci Beh Allora vuol dire Che ti becchi dieci Solletichi di compleanno Cosa? Uno Un anno Tu arrivi Tardi Sì Mi dispiace Ci ha avuto un po' di Un po' di cose Da fare Questa è la Secondo me La sorella E quello è il nipotino Mi buttate al balcone Se è così In diretta Su youtube Per voi Grazie Il suo primo compleanno Senza Elena Come sta? Continua a parlare Solo con me Yolanda dice Che in questo modo Riesce a mantenere Il controllo Elena Elena non è la mia figlia Lo sta aiutando E funziona Ci vuole tempo E' dura ma Ce la faremo Jax Ehi Scusa Ehi a ritardo Chiudai Un abbraccio Sei davvero Grande Allora Chi hai ricevuto? Ma a modo Lo compro Io ho giocato Vedi? Che sia la mia sorella E questo è il nipoto E' importante Che tu sia qui Devo essere sicura Che ora è tutto diverso E' così Io mi prenderò sempre Da bravo fratello maggiore Quindi Entra in casa di E chi è questo? Ti sei perso la festa I ragazzi hanno giocato al giustiziere Imitavano quel tipo di cui parlano alla tv Ma è lei? No Facevano tutti i giustizieri Mentre io ero l'unica cattiva Ma gli ho dato Parecchio filo da torcere Dovevo venire prima Dovevo avvisarli Di stare attenti a mia sorella Ricordi quando tu e mamma Stavate malissimo Ma papà insiste Enorme sta cosa Era davvero una cosa immonda Tutta storta e bruciata Proprio tipico di papà Ha fatto un sacco di stronzate Ma ci teneva alla famiglia Ma senti come parlo Beh ma io sto qua E tu parli a stare Credi di nasconderti dietro Un numero privato? Lascia fare a me Lascia fare all'hacker Ti stai divertendo Non è vero? Ma vedrai che la polizia Non riderà per niente Ci penso io Sorellina Ascoltami Voglio darti un consiglio Mi senti? Esci di casa Conosci gente Fatti una vita E smettila di chiamarmi Capito? Che cosa mi hai detto? Oh, devo doverlo Senti, la polizia rintraccerà la chiamata Ci penso io So dove abiti Hai chiuso a chiave La porta di casa Ma chi parla? Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro Nikki Chi era? Nessuno Uno scherzo idiota Capita Secondo te è resistente Hai riconosciuto la voce Cristo Hayden Lascia stare Ok? Quindi vuole entrare qui dentro Tu che ne sai di cosa vuole fare? Stai controllando le porte Senti, posso gestirmela da sola Non ci serve il tuo aiuto Nikki Io posso rintracciare Ok, senti Hayden Ti non sei cambiato affatto Non ci serve il tuo aiuto Smetti di voler risolvere i nostri problemi Ogni volta che ci provi Peggiori sono le cose No, davanti al bambino Lo dici Ma sei una puttana di merda Dai Vai a cucinare Vai a stirare Porca puttana Eh Grande e grosso E fai gli scherzi Vediamo se ti senta sicuro Dopo che ti ho rintracciato Oh, oh Eh, prendo quest'auto un attimo Porca puttana Ma spostatevi C'ho sta striscia a blu Che ho in tasa Soltanto Madonna Sono dei piccoli pali Ah, mo ti faccio vedere Io non lo porto a questo Eh, lupo Non con ness Devo andare a sbloccare il suo ctOS Sì Scusa ho esagerato Certe volte mi fai proprio impazzire Torna, ok? Prometto che ti ho avuto Sì, sì, un attimo No Ecco Lo stai facendo ora Sei incredibile Ehehe Ahahahah Non sparare, bastardo Non ti sento Ti senti benissimo Devi piantarla subito Eh, pronto? Ci sei ancora? Non sento Smettila di sparare Questo Questo Dai, corri più veloce Dai, dai Figlio di puttana Se t'acchiappo T'ammazzo Comunque avete capito Hanno attivato Attivato il verde E l'hanno No Eh, ctOS è toccato Vai, ci sono quasi Ah Figlio di puttana Ah, non era lui questo Siamo d'accordo Su tutti questi soldi Solo per fare uno scherzo al telefono Niki, please Eh Ne dirò delle serrature E di suo figlio Ma questo non è affatto giusto È questo il punto Ho pagato questo stazzo Da smaventare Niki Chi pagherebbe Una cosa simile Boh Come andiamo col Tetzek? Mi servono gli hack del CTOS Ci sto provando Ti stanno valutando Dammi tempo Ok, allora devi aiutarmi Vuoi tracciare una chiamata? Per il mio mio cliente? Certo Aspetta Dunque ragazzi È il giorno d'oggi Un pizzo che ha minacciato la mia famiglia Dimmi chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop Ma non so dirti altro Ok Se riesco ad hackerare il CTOS nel Loop Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato Proviamoci La Bloom sta costruendo un nuovo CTOS nel Loop È perfetto Il mese scorso il Tetzek ha cercato di attaccarlo Abbiamo fallito Hanno aggiunto altre guardie armate Non sarà facile Attento Perché io praticamente Farò così Guardate ragazzi Io sto con il joystick Sto giocando con il joystick Infatti la guida è un po' migliorata Non è il massimo Io Ah beh qua c'è gente Meglio che non lo faccio Ragazzi il giorno d'oggi Un hacker È molto più È molto più Forte Di una qualunque altra persona Proviamo la pistola Come si fa a mettere l'inventario la pistola? Malvola No No ho sbagliato Dov'è la macchina che ho lasciato io qua? Ma chi è questo? A tutte le unità La centrale ha avviato la scanzione di TOS per il sospetto Ma che cazzo? Ah Ho capito che è successo Ragazzi No Non sparate Adesso perché non sommette l'arma Ma vi faccio vedere io Bastardi Aia 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 no 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 Ma nonna mouse Ma sono troppi ragazzi Scusami Devo scappare Orco giuda Inseguimento a fine Ancora ce l'ho dietro vero? Minimo ho preso l'arma migliore Cioè l'arma migliore Ho preso la Oh hanno fatto l'incidente Ho preso Cioè la migliore macchina Che mi potrà capitare l'ho presa io Non capivo che stava succedendo Però ora ho inteso tutto Praticamente Mi hanno visto quella pistola Il calzone, quello che vedeva in rosso Stava chiamando i carabinieri Cioè la polizia Ah 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 Eh l'incidente l'ha fatto lui Passa col rosso Io mi diverto C'è un elicottero però Porco giudto Ma Mi nascondo in questo modo Niente non si scappa Ah non mi rompete il cazzo Su Vediamo fino a dove mi riuscirà a seguire Bastati Porco giuda Ah 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 Lo faccio così Ora sono con mouse e taziera ragazzi Omicidio Omicidio al centro di polizia Attenzione una volante è stata inviata in cerca del sospetto Tieni giù bastardo Porco giuda Almeno c'è la macchina Ma che è sto mirino che c'ho addosso Porco giuda Porco giuda È rosso Non puoi andare Uh sto scappando Sto scappando Madonna è inguidabile Inguidabile Ok Uh uh Comunque ragazzi Quello che io volevo dire è che Praticamente quando succedono queste azioni Io prendo il mouse e inizio a sparare Hai visto che poi il gioco In base a se sto usando il mouse e la tastiera Mi dice Per salire sull'auto Y Se è con il joystick E Se è con la tastiera E Praticamente qua è un problema Allora quello che era successo è che Mi hanno visto con la pistola Allora Era uscito quel tizio in rosso Quel tizio in rosso praticamente era un bastardo Figlio di puttana Che non si fa i cazzi su Che stava chiamando la polizia Io potevo hackerarlo Per non Per deviare di forse la chiamata Eccetera Per non Per non Progressi Albero delle abilità statistiche Vida Dead Sec Volevo vedere auto su richiesta Sfide Trip digitale Ragazzi con questa bella musichetta Che toglieremo Vi do appuntamento al prossimo video I video verranno lunghi così Perché se no Io non posso caricare 2000 video Per fare una serie Quindi io Più lunghi sono Cioè Ogni cosa Li farò lunghi Ovviamente Oggi abbiamo scoperto un po' Come pedinare le persone Acheriando il cellulare Capendo se è una possibile vittima O sospettato Abbiamo visto pure un inseguimento Con la polizia Nel cazzo E abbiamo fatto il Grande Fratello Edizione 15 Quindi con questo Vi saluto E al Prossimo video di Watch Dogs Ciao